I poeti sono come gli angeli, non cambiano mai, è la tonalità del canto a cambiare con la forma del mondo. Nell'ora del sole medio ci sono solo naufraghi e migranti in lento movimento, impiccagioni, mute di cani rabbiosi, terra secca e raccolti perduti. C'è una guerra, lontana o forse vicinissima, c'è il segno di qualcosa che ha colpito i corpi con l'ineluttabile e cieca democrazia del male e del dolore. Non c'è ombra, tutto è luce accecante, dalla nota di Ignazio Licata.